Come sono mutate nel corso della storia le forme del lavoro coatto? Per rispondere a questa domanda, nel prossimo appuntamento dei giovedì del Parli incontreremo Alessandro Stanziani, autore del volume Le metamorfosi del lavoro coatto, una storia globale XVIII-XIX secolo. Alessandro Stanziani insegna storia globale all'Ecole des Autitudes a Parigi. Nel suo volume ricostruisce, attraverso fonti giuridiche e processuali, diari e letteratura a coeva una storia che mostra come l'avanzamento dei diritti sociali ed economici non sia una linea retta e soprattutto non riguardi tutto il mondo del lavoro ma solo una sua parte. L'autore scrive che lavoro libero e lavoro coatto si intrecciano, si sovrappongono e quasi sempre rispondono l'uno all'altro. A dialogare con l'autore sarà Enrico Acciai, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata. Coordinerà l'evento Antonella Salomoni, professore ordinario all'Università della Calabria. L'appuntamento è giovedì 1 dicembre alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.